Sta per concludersi una mostra importante a Palazzo Roverella, ovvero quella su Robert Capo, ma ne stiamo già attendendo un'altra che avrà come protagonista l'artista Renoir. Sentiamo se i commercianti sono contenti di questo nuovo arrivo, se magari hanno avuto un afflusso importante di persone rispetto alla mostra precedente, che cosa si aspettano con questa nuova mostra? Allora sicuramente la mostra in corso a Palazzo Roverella ha fatto arrivare sicuramente un afflusso di gente maggiore rispetto al solito, quindi siamo sempre molto contenti sia per quanto riguarda l'offerta che viene fatta alla città, sia per il richiamo che queste mostre hanno, sia per la nostra attività che per la città in generale. Quindi sicuramente vedere un flusso di gente maggiore sia all'interno della nostra attività, sia nei ristoranti, nei bar, è sicuramente molto piacevole e ne siamo molto contenti. Noi cerchiamo sempre di richiamare anche nelle nostre vetrine e con una ricerca di titoli, in modo da riuscire ad ampliare la gamma e l'offerta sia per i clienti abituali, sia per i turisti che vengono espressamente in occasione delle mostre. Quindi per la mostra di Robert Capa abbiamo avuto un certo afflusso, forse non paragonabile a quello che c'è stato in passato con la mostra precedente e forse anche a quello che ci aspettiamo dalla prossima mostra dedicata a Renoir, ma siamo sempre molto contenti e fiduciosi e visibilmente vediamo un afflusso maggiore rispetto al solito. Quindi benvengano queste mostre, queste che sono sempre tra l'altro molto seguite, molto curate e quindi veramente un'offerta ottima per la città. Sicuramente la mostra attira più visitatori quando il nome è più eclatante, per cui Renoir sarà un successo sicuramente, anche perché arriva in un periodo di primaverile e quindi le giornate sono più lunghe, c'è più possibilità che ci sia una bella giornata. Però anche questa, l'ultima che sta finendo, è stata comunque seguita. Molta gente viene da molte città del Veneto e anche più da lontano, quindi abbiamo visto del movimento. Noi di solito ci adeguiamo un pochino facendo ogni volta che c'è una mostra nuova, un tessuto microfibra per la pulizia degli occhiali con l'immagine del quadro oppure dell'immagine che la Fondazione vuole promuovere per la mostra che verrà effettuata. E abbiamo molta soddisfazione, le abbiamo ottenute tutte, abbiamo dei quadretti, la consegniamo gratuitamente a chi ce la richiede e direi che ha avuto un bel successo. Quindi questo è il nostro adeguamento a queste manifestazioni. Allora, la mostra di Kappa è stata un po' più contenuta rispetto a Kandischi e è normale, penso anche. Abbiamo visto sicuramente qualcuno venire da fuori e quindi muoversi attorno al centro anche chiedendo informazioni, quindi comunque un piccolo indotto c'è. Sicuramente si attende meglio a Renoir perché, visto i numeri fatti da Kandischi, ci aspettiamo qualcosa di più e sì, va sicuramente fatto qualcosa di diverso rispetto alla scorsa volta perché effettivamente, per esempio parlo per noi, non abbiamo effettuato nessuna apertura straordinaria, mentre in questo caso penso ne terremo presente la cosa proprio per evitare di andare incontro a quel turismo che viene proprio appositamente per la mostra. Insomma, quindi da febbraio in poi ci attrezzeremo per tenere aperte la domenica in determinate fasce orarie che è il nostro unico giorno di chiusura. Allora, noi siamo sempre contentissime quando ci sono le mostre perché ci portano sempre tanta gente e ogni mostra porta veramente gente da fuori e anche clienti a noi perché, devo dire, passano di qui, si fermano anche solo per chiedere informazioni ma poi trovano qualcosa che gli piace. Come potrebbe attrezzarsi meglio la città? Sicuramente qualche indicazione maggiore, qualche... non so se già c'è in realtà per ristoranti o cose varie per chi frequenta le mostre, però se ci fosse sicuramente servirebbe perché noi diamo tantissime indicazioni più per i ristoranti che altro, quindi quello sicuramente servirebbe.